Non mi ricordo, ma era nata la sfida durante l'inverno, perché lui sapeva che faceva questa cosa, lui è appassionato di moto, questo e quell'altro, quest'anno faceva la Senigallese Alberto, che era un italiano, molto amico di lui, che si trovava con la moto, perché lui è di Senigallese, è di Salice e Dulzio, andava su, andava sulle montagne, si trovava sulle montagne, andava a farsi in giro con gli enduro e cosa. Ho detto, dai organizziamo quest'anno, allora facciamo Fattori, era un po' crossista, faceva un po', allora Ghedina Fattori contro Alphane e Senigallese, non la ricordo, non la ricordo. Allora io ero lì, che era a mia portata, ero dietro, ma no, 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 sul saldo, non in partenza, eravamo già in gara e non avevo visto che era Luc, non sapevo che era Luc, e lo vedevo, questo qua, c'erano anche gli altri, quelli forti, mi passavano via, perché poi dopo era diventato un duro, era un duro lignano, non le 12 ore lignano. No, era già il passaggio, era già il passaggio, sì, e dico, cazzo, lo becco, lo becco, gli stavo arrivando vicino, gli stavo arrivando vicino, dico, adesso avevo deciso, la dopo salto, dico, adesso li vado sotto, sul salto, avevo visto il giro prima che lui un po' molava, cosa, dico, adesso vado al salto, faccio pieno, li passo, e lui nel salto è atterrato, è andato giù un po' di muso, gli ha chiuso lo sterzo, ha sbacchettato, è andato giù di muso, e io ero proprio dietro lì, e gli ero a fianco, è caduta la mia parte, io non potevo, non potevo proprio di ritagli, sono passato sopra con la, con la moto, ho preso una, volevo quasi fermare e questo qua l'ho ammazzato, cazzo, e poi dopo ho detto, ma che cazzo me ne frega, siccome anche io in partenza ero caduto, mi sono passato di sopra, cazzo, qui non c'erano proprio le missioni di niente, e mi sono realizzato, sono ripartito, ho disegno anche io delle ruote, sono ripartito, sono finito la gara, poi dopo la fine della gara, arriva lei, lui che fa, eh, Cristiano, guarda qua, bastardo, bastardo, guarda qua, mi sono tirato, mi sono tirato, mi è cazzo, ma fai, merito, sì, perché quando ho preso, ho guardato, ho preso il colpo, ho guardato il numero, ho guardato, e ho visto che eri tu, e gli ho detto, ah ma fai, scusa, gli ho detto, è stato simpatico così da dire.